Dottoressa Monia Franceschini, funzionaria di Roma Capitale, buongiorno. Perché è qui oggi e perché è importante questa giornata? Dunque, io sono stata coinvolta dal direttivo del Via Beneditti già dall'anno scorso per l'istruttoria in accreditamento al programma itinerari culturali europei dal punto di itinerario Via Beneditti. Mi occupo di questo anche per la via Nicolaiana, il cammino di San Nicola, che ha un protocollo di gemellaggio in accreditamento, quindi ottimizzazione di risorse umane con il Via Beneditti e quindi collaboriamo insieme su molti processi. Proprio ieri abbiamo lavorato insieme su un tratto della Valle dell'Aniene perché sono anche direttivo della DMO VAMOS a Niene, nella quale proprio il Via Beneditti ha richiesto l'adesione come socio ordinario. Quindi presto potremo lavorare anche sulle tappe che voi vedete che vanno nella Valle dell'Aniene, in particolare su Biaco, Vicovaro, andando verso Farfa. È importante oggi questo grande progresso nella ottimizzazione della cartellonistica perché è fondamentale far vedere al Consiglio d'Europa, quindi al programma itinerari culturali europei, come un grande partner nazionale come CEA si sia prodicato insieme agli enti locali per appunto innovare la cartellonistica del Via Beneditti. Quindi siamo molto fiduciosi anche in un interesse nelle altre zone, proseguendo verso Roma, città metropolitana, Roma capitale, e andando avanti verso Farfa. Grazie mille. Grazie a voi.